Chi sei tu? Mio padre è Victor. Io sono Victor. Devo trovare sei apostoli. Tu sei Victor. E lui? È Dio. Dio ci dice Io me nel fondo del baseball! Mai ditta una cosa simile? Sono una civetta! Ti piace stare qui? Sì, sono felice! Ho molti Victor! E mi serve ancora il diciottese Victor! Basta! Basta con questa stronzata dei diciotto Victor! Sono dodici! Dodici! Come una squadra di Victor! E la tua mamma? È giovane o vecchia? È vecchia. È giovane. È ve- Victor! Ma hai! Cosa? Ma hai! Cosa? È tutto!